Sicuramente ho imparato tante cose, è stato un anno molto difficile per tanti aspetti Mi è piaciuto tanto fare a fine stagione l'esperienza nelle gare di un giorno Ho fatto il campionato europeo, è stata un'esperienza fantastica Una cosa che terrò per sempre con me è l'esperienza delle Olimpiadi È un evento unico per ogni sportivo e augurerei a ogni sportivo di poter partecipare alle Olimpiadi Tanti momenti brutti, pochi momenti belli, ma ho imparato tanto Sicuramente mi servirà per i prossimi anni Saresti felice del tuo Olimpiadio 27? Se sarà una buona annata Insomma è difficile dire voglio vincere qua, voglio vincere là Una cosa che voglio fare e vorrei fare è essere costante tutto l'anno E via Questo è...